ciao ragazzi buongiorno oggi qui come sempre sono io e mario allora oggi favo la seconda bisogno a questo giorno però ho cambiato ho fatto i quattro meglio che bottacchi da andiamo e c'è la figlia famo due poi non va a 5 che ha ma allora eeeh metto le vien vai io non me fico eh io non me fico pescata Sì No, la boxe è giù, giù! No, marecchia cosa? Ma riesco a fare, beata. Sì, asciel, sai. Parlo. non puoi farlo c'è chi vuole quello vai non ci viego non ci viego tu tu cavallo fai no non è possibile non è possibile c'è solo per aver segnato il gioco di giocacce solo per aver segnato c'è c'è chi chiude subito non è possibile c'è 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 encouraging c'è 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 devi muovere quando c'è la niente con me che fa pecaio no fa pecaio mi rifiuto di giocare al gioco no mi rifiuto no mi rifiuto no mi rifiuto al gioco no mi rifiuto pecaio no mi rifiuto no mi rifiuto e saba nu e po o bec 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 sei a pegnare vai chi cazzo è penhia penhia di bego Ero Nii No No Now you're talking about Yeah You're talking about Yeah You're talking about Ok Will you be right there? no e 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 dai dico petta dai dico dio ma non mi metta dai 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 allora uno due vai dico dai dai dico parlo in cui si vede dai 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 non si può poter così dai 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 non si può poter così dai 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 Papà D'Avrano Noi sono ancora inizia Rattare? Rattare, dai, attacca Semplicare un po' di te, che è un po' di te Vabbè signori, il video è felico e che... Io voglio dire una cosa per il gioco e... Perché c'è forza, voglio dire... Ma non è possibile, non è possibile il gioco. Allora, ora magari è meglio parlare di Gaccio è meglio, perché è meglio. Sono qua 4 per i miei consigli e io... Giochiamo a Gaccio, non è vero? Eh? A Gaccio. Cosa? Giochiamo a Gaccio. E' per la Gola. Due a... Gior... Giorgica. No, non c'è ma su Gaccio a Gaccio a fa. Vabbè, ci chiediamo Robidio, perché... Ciao, 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 ciao... Ci rivolgiamo quando... Cosa che ci rivolgiamo? Ciao, signori. Ciao.